A chi è, a chi fa di voi negli ultimi tre mesi ha fatto 5.000 km in aereo? Provate a immaginare di farli a piedi. Quanto ci permette così? Mi permette di introdurre il nostro amico che oggi è qui con noi. Lui è semplicemente e solamente il nostro applauso ad Alex Bellini. Questo nuovo percorso porterà questo nostro amico dal 19 di giugno al 27 di agosto a percorrere 70x70x70. Lui passerà due deserti, una catena monduosa con 40 gradi di escursione termica. Partiremo da Los Angeles il 19 giugno e dopo una lunga cavalcata di 5.000 km raggiungeremo New York. Premetto che lui ha iniziato a correre a novembre, cioè non è un runner. Preparare una cosa del genere, io che sono un preparatore, dico che potrebbe essere impreparabile. Un uomo della terra di mezzo, un cavaliere di rohan, forse non è normale ma è naturale, è un uomo naturale. Sono assolutamente convinto che se c'è una cosa di cui dobbiamo renderci conto nella vita è che la vita è una sola e che quindi dobbiamo trovare ognuno di noi il proprio modo per cercare di renderla unica. Lo dobbiamo innanzitutto a noi stessi e soprattutto anche ai figli che cresciamo, perché si possa essere noi esempi di come la vita vada assolutamente vissuta, non importa quanto sia difficile per raggiungere la nostra spiaggia, la nostra terra promessa. Grazie.